I carabinieri di Conegliano sono intervenuti nella notte appena trascorsa all'ospedale Santa Maria dei Battuti dove un uomo senza fissa dimora ha dato in escandescenza dopo aver chiesto soccorso al 118 ed ha sferato un pugno al volto ad un'infermiera poco dopo essere arrivato al pronto soccorso. La pattuglia che si trovava nei paraggi per un servizio di controllo del territorio l'ha immediatamente bloccato. Si tratta dell'ennesima aggressione ai danni di sanitari. Nel giro di un anno sono state 480 le aggressioni al personale sanitario in provincia di Tereviso, 20 quelle fisiche che hanno portato anche a giorni di malattia, le restanti a livello verbale. I dati sono stati forniti dal direttore generale dell'ULS2 Benazzi per il 2022. A Tereviso e a Conegliano c'è già un presidio di polizia dalle 8 alle 14 manca invece a Montebelluna, Castelfranco, Vittorio Veneto e Oderzo.